Sono Daniela Rebecchi, psicologa e psicoterapeuta, responsabile della sede di Studi Cognitivi di Modena. Studi Cognitivi è una scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale riconosciuta dal Ministero Università e Ricerca, con sedi nel nord e centro Italia, Milano, Bolzano, Mestre, Modena, Firenze, San Benedetto del Tronto e Genova. Studi Cognitivi è anche il centro di ricerca di terapia cognitiva e ha un web journal di psicologia, State of Mind, il più seguito in Italia. Studi Cognitivi è un centro clinico, un centro clinico di psicologia e psicoterapia presenti nelle sedi delle scuole specializzazione. Dentro il centro clinico sono presenti centri di specializzazione cliniche italiane di psicoterapia e nella sede di Modena è specifico il centro sui disturbi di personalità. Disturbi di personalità sono dei disturbi presenti nel 10% della popolazione con un forte impatto sulla vita familiare, sociale e relazionale. Possono essere presenti disturbi d'ansia, sede depressivi e uso di sostanze. Che cosa offre il centro di clinica italiane di psicoterapia Modena? Offre un trattamento efficace da linee guida ed è un ambulatorio intensivo con un'attività gruppale nel pomeriggio, un'attività quindi pomeridiana con colloqui ai familiari. Come si può accedere? Le persone che hanno già un loro terapeuta, psicologo, psicoterapeuta o uno psichiatra possono usufruire di queste attività gruppali e colloqui familiari in collaborazione comunque tra il terapeuta individuale e le figure del centro. Nel centro sono presenti quindi figure quali psicologo, psicoterapeuta, terapista della riabilitazione e psichiatra. Nel caso non aveste un terapeuta o individuale o psichiatra potete comunque accedere nel senso che il centro offre sia l'attività gruppale con colloqui familiari e la psicoterapia individuale. Quindi per accedere potete entrare nel sito modena.cliniche di psicoterapia e ritroverete tutte le indicazioni per poter quindi accedere in questo centro specialistico.